dalla santa casa di loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'angelus e del santo rosario con le vostre candele accese offerte alla madonna di loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dalla santa casa di loreto preghiamo l'angelus e del santo rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione preghiamo maria donna del sì per le vocazioni al sacerdozio alla vita consacrata e al sacramento del matrimonio l'angelo del signore portò l'annunzio e della concepi per opera dello spirito santo ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen eccomi sono la serva del signore si compie in me la tua parola ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen prega per noi santa madre di dio perché siamo resi degni delle promesse di cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazie o padre tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce guida ci è la gloria della risurrezione per cristo nostro signore santa madre di dio che risplendi di grazia tu ci accogli nella tua casa con fiducia noi veniamo a te santa madre di dio santa madre di dio santa madre di dio che risplendi di grazia tu ci accogli nella tua casa con fiducia noi veniamo a te nel primo mistero della gioia contempliamo l'angelo annuncia maria la nascita di gesù pater nostre qui est in cielis santificetum nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra pane nostrum quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nosa malo amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero della gioia, contempliamo Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Salam Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero della gioia, contempliamo Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne e benedito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Inarabo. Assalamu alaikum ya mariam ya mumtali anama, al Rabbu ma'aki, mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki yesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Assalamu alaikum ya mariam ya mumtali anama, al Rabbu ma'aki, mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki yesua. Assalamu alaikum ya mariam ya mumtali anama, al Rabbu ma'aki, mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki yesua. Assalamu alaikum ya mariam ya mumtali anama, al Rabbu ma'aki, mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki yesua. Assalamu alaikum ya mariam ya mumtali anama, al Rabbu ma'aki, mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki yesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali anama, al-Rabbu ma'aki. Mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki, Yasu'a. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali anama, al-Rabbu ma'aki. Mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki, Yasu'a. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali anama, al-Rabbu ma'aki. Mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki, Yasu'a. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali anama, al-Rabbu ma'aki. Mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki, Yasu'a. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Assalamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali anama, al-Rabbu ma'aki. Mubaraka enti finnisa, wa mubaraka thamarat batniki, Yasu'a. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve, regina, mater misericordie, vita dulce do, et spes nostra salve. A te clamamos, esules filieve, a te suspiramos, genentes et flentes, inat lacrimarum valle. Eia erbo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesu benedictum fruttum ventris tuin, nobis post hoc esilium ostente. O clemenz, o pia, o dulcis virgo Maria. Signore e pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina dei Agnello di Dio, che tagli i peccati del mondo Agnello di Dio, che tagli i peccati del mondo Agnello di Dio, che tagli i peccati del mondo Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il Tuo unico Figlio, ci ha acquistato con la Sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Preghiamo. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella Tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui del profondo del tuo cuore hai detto, eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della Sua bontà nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede, dell'amore e della pace, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese perché rimanga un Paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dell'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Ammi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine, gloriosa e benedetta, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Santissima, O Pissima, Madre nostra Maria, Tu preservata, immacolata, prega, prega per i figli tuoi. Tu preservata, immacolata, prega, prega per i figli tuoi. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie. Grazie.